Io penso che la politica, quella buona, quella vera, deve cercare di prevenire prima che i fenomeni si verifichino e certamente la cultura dell'emergenza non dà dei buoni frutti. Io ho sempre ritenuto, però per la mia precedente funzione lo ripeto da vent'anni almeno dagli anni 90, che c'è bisogno di una riforma della giustizia globale che affronti tutta una serie di problemi e li affronti in maniera radicale una volta per tutte.